Musica Oh, tutto il tempo giocare così col computer è troppo bello Però avrei voglia di un po' di succo, ma non ho voglia di alzarmi Emma, Emma, mi porti il succo se lo vai giù Ma non c'è vero, ma se non c'è, e non c'è per giorni Oh, un'ideona, ma certo Ah, Julian, cosa stai? Perché voli così tutto il tempo e dovrei badare a te, no? Invece tu devi continuamente darmi fastidio Ah, sì, scusa, non volevo urlare, no, no, tutto bene Oh, non deve assolutamente accorgersi che io ho un piano Oh, no, 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 puoi andare, non ti preoccupare, sono tranquilla Mmm, sì, sembra una buona idea, vado subito, eh Come dire che vorrei passare il tempo con te Ho di meglio da fare, ma stai zitto Ah, eccomi qui, Pia, sì, Julian, insopportabile Non lo so, devo badare a lui, siamo solo noi due a casa Ah, non è possibile, di nuovo voi? Oh, no, questo no, no, assolutamente no Ah, Pia, mi dispiace, lo so che voleva parlare dei compiti di matematica Ma non riesco a concentrarmi, devo parlare con Julian Ah, non si può parlare in tranquillità, no? Oh, così è molto meglio, anche se è il tappeto dentro o fuori? Cos'è tutta questa roba? Nella camera di mamma sono i mobili di Emma Ah, ecco cos'erano i rumori Julian, cosa fai qui? Eh, io, no, niente, niente Sistema la camera Aha, sistemi la camera Perché l'hai svuotata tutta? Oh, va bene, va bene Insomma, volevo solo ingrandire un po' la mia camera Julian, scordatelo, saranno guai Anche se avrei un'idea Io prendo le tue e tu prendi la mia Allora non dico niente So cosa dico, questa è una fantastica idea Ok, perfetto Allora, sistemiamo le cose Sì, sì, sì Cosa dici se lo mettiamo tutto in garage? Sì, buona idea Bene, spostiamo tutto sotto Poi le cose dalla mia camera Di là e le cose di là Oh, fantastico Proprio così come me lo immaginavo Aha, Pia, cosa ne dici di questa nuova camera? Abbiamo due camere ora Ho una camera e ho un ufficio Ma qui cos'è, c'è tanto spazio Un po' vuoto Ah, vabbè, guardiamo un po' in internet Magari trovo qualcosa da poter mettere lì Oh, sei solo un po' stacco Oh, divano Mi piacerebbe averlo in camera Vabbè, ho tanto spazio Ah, bella questa pagina Allora, hanno dei due mobili Ah, questo sì, lo vorrei E zac, carrello E perché sono così brava Vediamo cosa cerco per Julian Ha molto posto Potrebbe avere bisogno di un paio di cose Questa scrivania, per esempio, è troppo piccola Se poi diventerà un po' più grande Vorrà fare i compiti Allora ha bisogno di una vera e propria scrivania Oh, sì, dovrei andare a vedere Se ci sto qui il divano Oh, no, lo sai che è la mia camera Per i prossimi giorni Sì, sì, certo Ci sono dei mobili lì Vuoi qualcosa in camera tua? Ah, sì, perché no Ho bisogno di un divano gigante Magari una tv tutto per me Ok Sì, sì, sì Sono dei miei migliori idee che ci erano Qui arrivano i nostri nuovi mobili Oh, ci ho messo davvero poco Hanno suonato Buongiorno Ah, sì, sono io Sono Anna Fog Oh, sì Ho bisogno solo di una firma Ah, che bella La mia nuova sedia È davvero favoloso Oh, sì Vorranno sudorci anche loro Oh, così Lo volevo un divano gigante Comodissimo Sì, ci posso anche per i miei amici Oh, sono troppo contento Per la mia nuova camera Perfetto Ma questo e questo Non mi servono per forza Ma, vabbè Oh, ti piace la tua nuova camera? È così fantastica Comida, stupenda Insomma, questo tavolo Dobbiamo buttarlo anche Ma servirà tra un po' Sì, sì, sì Buona idea Ha suonato qualcuno? Qualcuno ha dimenticato Un lui immobili? C'è qualcosa? Oh, no Penso che sia la zia Non me lo aspettavo Eh, sì Salve No, volevamo solo venire Un attimo A controllare Ma, eh Non serve Non serve Potete andare Ah, sì Ci vedremo tanto Tanto, tanto Tanto Non siamo molto benvenuti Ma già che ci siamo Mi faccio un caffè Oh, vediamo Cosa fa mio cagino Julian Ciao Julian Sì, sono Nils Sì, quello ricco Eh, cosa Cosa ci fai qui? Non è la camera di Julian? No, ora è mia Ma, aspetta Questa è la nuova sedia del design Eh, non ho un'idea Mi piaceva Oh, che ottimo gusto Qualcosa di positivo La stai sentendo stranamente Da Julian Vabbè Oh, un caffè davvero Da poveri Mamma, mamma Non ci puoi credere Amma, sopra Della sua camera La storia che volevamo noi E che non ci potevamo permettere Cosa? Non è possibile Oh, no, no, no Oh, no Mi è caduta la tazza Ma tanto non era buona Devo assolutamente vederla Ma cosa sta succedendo qui Da quando Julian Dei nuovi mobili No, no, no Non è possibile E ho anche questa nuova scrivania Questa nuova sedia Lavorava io per il mio ufficio Come ho potuto permetterlo? Ehi, sono qui Ti sento E ho anche un nuovo divano Eh, Julian No, no, no Non capisco Cosa? Eh, sì Pensavo che Julian Non piacesse niente Invece Come avete potuto Permettervi la cosa così Insomma Va bene Siamo tornati Oh, insomma Il tour è stato lungo Ma Oh, mi dispiace Qui c'è stato un piccolo Allora si porta ancora dei mobili Vi sono accorto Che vostra figlia Ovviamente Eh Non poteva firmare Perché non è maggiore Né sono nei guai Perché il mio capo Si è arrabbiato Nuovi mobili Hanno firmato Cosa? Che cosa? 30.000 euro di mobili Non lo firmerò mai E poi mai Ah, Niel Sapeva ragione La sedia fantastica La avrei avuto anch'io Ma è così bella Zia Se vuoi Ti ci puoi sedere? Oh, è davvero così fantastica Sono la tua zia preferita Magari me la puoi regalare, no? Oh, se questa scrivania Fosse nella via Di ufficio Oh, no Possiamo parlare? Ah, papà Sono Anna Sì Se ne sai cosa Sono Julian Ah, sì Eh Aspetta Aspetta Cosa ci fai tu Nella tua camera? Ma Aspetta I vostri mobili Quei no Eh Anna Ho sentito la cosa dei mobili Ma Insomma Ha a che fare con gli schner Sono Sono stati loro? Eh Eh Sì Eh Non ci sono guai Eh Insomma Ridiamo di altri mobili Ma cosa mi è venuto in mente? Cosa ci è venuto in mente? Insomma Poi Ho già venuto Per favore Fammi posto Oh, sì La prendo pure questa scrivania Ma non il divano Eh Martin Insomma Cosa Cosa ci entriamo? Noi volevamo semplicemente Guardare Oh, sì Come dire Che ci crede i bambini Si saranno affidati E voi Avete obbligati a comprare i mobili Schloser Ah Come qui Nella mia vecchia camera Almeno non abbiamo avuto guai Eh Ciao Julian Com'è la tua camera? Tutto bene? Eh Oh no Non ha funzionato Sai cosa ti dico? Non siamo più amici No, no, no Cambiamo la camera È finito Siamo di nuovo fratelli Ah Sì Lo so Julian Oh Insomma Oggi siamo andati d'accordo Eh Papà pensavo che fossero stati gli schloser Invece no Torno dalla mia camera Allora Allora Allora